Unirsi a una persona di solito lo si fa soltanto per paura di stare soli o per così arrancare nella vita di tutti i giorni. Ma lei non è mai stata unita a una persona? Certo, però le cose sono bellissime entro il primo anno, poi le cose cambiano, perché forse le persone cambiano e improvvisamente ti trovi vicino a delle persone che non sono quelle che hai conosciuto.